Una chiesa povera per i poveri, sul modello immaginato da Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Nel giorno che dà avvio al nuovo anno pastorale, in cui si celebra l'anniversario della dedicazione della Cattedrale di Trani, l'Arcidioce, si guidata da Monsignor Leonardo da Scenzo, traccia il sentiero sul quale la comunità dei fedeli sarà chiamata ad incamminarsi per i prossimi anni, sulle orme di Gesù, maestro di obbedienza, umiltà ed amore. Chiesa povera per noi significherà soprattutto essere chiesa che desidera somigliare sempre di più al suo maestro, al suo signore, il Signore Gesù, Dio fatto povero per venirci incontro, per donarci la salvezza perché attraverso la sua morte e il dono della sua vita noi fossimo arricchiti e potessimo vivere appunto la comunione con Lui. Non solo l'organizzazione di menze, dormitori, docce, centri d'ascolto ed empori, la Caritas è pronta a far partire sul territorio nuovi ed ambiziosi progetti per far fronte all'aumento delle povertà causato anche dall'emergenza pandemica. In alcune zone come la zona della Forania, la zona di Barletta, se prima erano i poveri a venire nei nostri centri d'ascolto, adesso sono gli operatori della Caritas che si recheranno negli appartamenti, nei condomini, lì dove ci sono le povertà più nascoste, forse perché motivate da vergogna, da paura di stigma sociale, e lì concretamente comprendere, capire i bisogni e cercare di dare una risposta. Invece per quel che riguarda la zona di Corato si sta pensando a creare anche lì un dormitorio e una mensa, visto che il territorio ha espresso questo tipo di richiesta. A Trani pensiamo di organizzare un emporio solidale a favore della gente povera, perché arriva da noi tanto materiale che vorremmo riutilizzare in tal senso. Già abbiamo un emporio a Biceglie e ne vogliamo appunto riproporre un altro a Trani. L'attenzione è per le povertà locali, ma non manca lo sguardo sul mondo. La Caritas Diocesana si inserisce nel progetto dei corridoi umanitari avviato dalla CEI e dal Ministero dell'Interno. Alla fine del mese di ottobre arriveranno 13 profughi, che in questo momento si trovano in un campo profughi del Niger. Sono stati già selezionati dalla Caritas. Si tratta di due famiglie, una addirittura formata da otto componenti, due adulti e ben sei minori, più un'altra famiglia, tutte sudanesi e poi alcune persone singole che sono del Camerun e dello Yemen. Ecco, in questa maniera vogliamo esprimere l'attenzione di una chiesa non solo al proprio territorio, che già presenta tante povertà e che pertanto saranno raggiunti attraverso i nostri operatori, ma l'attenzione della nostra chiesa anche ai problemi mondiali causati dalla povertà e quindi questa attenzione a questi fratelli meno fortunati di noi.